ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di dragon ball legends allora ragazzi prima di cominciare voglio voglio farvi una domanda e spero mi rispondiate sotto nei commenti visto che questo è un gioco nuovo portato da poco sul nostro canale fatemi sapere se vi piace o o meno o cosa vi piace di questo gioco quale altro gioco vorreste vedere sul nostro canale niente vi auguro buon divertimento via col video cioè via col gioco what do you say let's give it a shot what do you say let's give it a shot what do you say vai for morire what do you say here's a shot ok jump above ok 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 Il mio moto si viene là, ah, come on. Ecco, qua ci sono gli eventi, va bene. Adventure! Successo. Vediamo di tuffarci subito in qualche battaglia. Va, oggi vado di PvP, dai. Facciamo una sfida PvP, ovvero una sfida contro un altro utente. Utente online. Allora, ragazzi. Ok, casual match, va bene. Mettiamo questo. Vabbè, dovrei massacrarlo, definitivamente. Però, andiamo a questa battaglia. Pugliese C contro rivale. Vabbè, rivale. Contro rivale. Sì, contro un altro utente online. Via! Vediamo un pochettino. Vabbè, non l'abbiamo fatto respirare un secondo. Capò. Vabbè, non l'abbiamo fatto respirare un secondo. Ok. Ok. K.O. 3 a 0 abbiamo vinto questa prima PvP. Ok. E poi io direi di andare avanti nel gioco, eh. Proprio nel gioco vero e proprio. New West Chet. Allora, che te lo guarda? Challenge. Start Battle. Ok. Get ready for the next battle. Ah, raga, Tekken ti devo portare pure, vabbè. Ti devo portare anche Tekken. Pronti per la sfida. Sì, che te lo guarda. We're all going there! le ho battuti tutti con un solo personaggio la macchina che ci faccio con la macchina va bene a posto con questo video andiamo ancora avanti facciamo un'altra battaglia sempre qua sempre qua abbiamo sblocato un sacco di belle cose andiamo a fare un'altra bella battaglia ragazzi ed è la seconda la terza dopo la PPP sono sbloccati questi personaggi qua che sono bloccati però pian piano adesso li sbloccheremo ora ah solo con uno devo combattere qua vabbè scelgo io vediamo la terza la terza la terza la terza la terza attenzione mi fanno solo gli altri personaggi attenzione eccolo ecco l'uno molto forte anche lui adesso facciamo entrare in campo Gohan da piccolo ovviamente spettacolo bella arrivederci nei prossimi video di Dragon Ball Legends Grazie